E' tutto pronto per la quarta edizione del Napoli Pizza Village in programma sul lungomare partenopeo dal 2 al 7 settembre. Un'area di 30.000 metri quadrati e circa 5.000 posti a sedere ospiteranno quest'anno l'evento gastronomico al quale partecipano 50 pizzerie storiche della città. L'appuntamento ad ingresso gratuito è promosso dall'associazione Pizzaioli Napoletani che si propone di battere il record delle 100.000 pizze sfornate nel 2013. Presso le 24 casse del Caputo Napoli Pizza Village sarà possibile acquistare il menù completo che prevede pizza, bibita, caffè e dolce, mentre uno dei 50 forni sarà adibito alla cottura delle pizze senza glutine. Quest'anno ci aspettiamo di toccare il tetto del mezzo milione di visitatori. Molti di questi arriveranno da tutta Italia e dall'estero, soprattutto grazie al lavoro che abbiamo fatto per posizionare il Napoli Pizza Village come vero attrattore turistico per il territorio. Tra le iniziative dell'evento, il 13esimo campionato mondiale del pizzaiolo in programma il 2 e 3 settembre che vedrà oltre 500 concorrenti di 5 continenti esibirsi in gare di pizza acrobatica nell'arena sul lungomare. Un'area del villaggio sarà dedicata a lezioni di pizza per adulti e bambini e un calendario di spettacoli accompagnerà i sei giorni della manifestazione con musica, concerti e cabaret. Un impegno nel quale siamo protagonisti insieme ai pizzaioli napoletani, ogni anno sempre più importante, sempre più grande e sempre più ricco. Si punta a mezzo milione di presenze, quindi ormai è un evento internazionale, è un evento internazionale di grandissimo respiro. La pizza attraverso Napoli fa il giro del mondo e Napoli attraverso la pizza fa il giro del mondo. È una bella cosa e siamo sicuri che sarà un successo.